La grande mostra di primavera dedicata a Giovanni Boldini, artista e creatore dei canoni della bellezza e della moda per le Grandame della Belle Epoque, è stata interpretata in questi mesi da tre scuole superiori ferraresi, ciascuna per le competenze specifiche dell'indirizzo dei studi e delle classi che hanno partecipato al progetto intitolato Le scuole interpretano Boldini e la moda. Tenere insieme tutto è stata la cosa più complicata e la cosa più divertente vedere i ragazzi lavorare. Primo perché ci sono diverse professionalità ma diverse anche visioni della didattica che si sono venute a trovare insieme e poi soprattutto visto la motivazione estrema dei ragazzi. Allora una serata particolare che nasce da una notte insonne mia, quando mi è venuto in mente dopo aver visto la mostra che avremmo potuto realizzare un evento particolare facendo una sfilata di moda all'interno della scuola sugli abiti del Boldini che ci sono in mostra. La serata è iniziata con una vista alla mostra nel tardo pomeriggio di lunedì cui hanno fatto seguito la cena rivisitata dallo chef Liborio Trotta sui menù di fine ottocento presentato nei piatti di ceramica creati per l'occasione dal Dossodossi. Un concerto del conservatorio e una sfilata di abiti ispirati ai quadri di Boldini. A coronare il tutto una scenografia di installazioni grafiche ispirate alla Parigi della Belle Epoque e all'estimenti verdi per rivivere l'atmosfera dei giardini d'inverno di fine ottocento. Questa sera si incrociano vari saperi, il sapere estetico, il sapere storico, quello del culinario in questa maniera percepiscono non la frammentazione degli insegnamenti ma l'unità della realtà. Sì, siamo molto felici di come sta andando la mostra ma anche di come la città ha risposto a questa mostra. Noi abbiamo cercato di estendere un progetto a tutta la città, abbiamo lavorato con le varie categorie produttive ferraresi e naturalmente facciamo anche un lavoro molto importante con le scuole.